Namaste, Magicoliere, canale di gioco, psicologia ed altre storie parallele. Benvenuti, il gioco e la psicologia sono due mie grandi passioni e infatti io sono psicologo e clown di corsia, formato secondo il metodo Magicoliere. Su questo canale potrete trovare imperfezioni, errori, qualche inquadratura a metà, sì va bene lo ammetto, talvolta l'audio non si sente benissimo, fruscio di vento, suono del mare di sottofondo, ma qui troverete anche le mie emozioni, il mio entusiasmo, addirittura qualche riflessione e tanti tanti esempi pratici mutuati dalla mia esperienza di campo. Infatti nel mio settore è fondamentale possedere due qualità, la prima è quella di avere un'ottima memoria e ce l'ho, la seconda mi va di condividere con voi il mio mondo professionale, i miei punti di forza, le mie conoscenze, le mie qualità, ma anche le mie criticità, i miei limiti, i miei dubbi. Infatti soltanto gli stolti sono sicuri di sé, di questa cosa ne sono certo. Facciamo il punto della situazione, voglio presentarvi il menu del mio canale, cioè i vari argomenti trattati suddivisi nelle diverse play liste. Grazie a tutti.